Trasdavet 2013, oltre 600 concorrenti provenienti da 22 nazioni, un successo annunciato, ora bisogna solo correre. Adesso c'è solo da fare, adesso il conto alla rovescia è iniziato, adesso le procedure progettate, pensate, sono alla prova e sono in movimento. Non c'è più da pensare, c'è da fare adesso. Un tracciato molto tecnico, disegnato sulle piccole dolomiti, 5500 metri di dislivello positivo per 80 chilometri. Sì, è il disegno per avere tutte le piccole dolomiti nelle proprie gambe, in un ambiente che non si immagina poter esistere così vicino alla pianura e che presenta tutti gli aspetti della montagna, dalla fascia prealpina fino alle rocce dolomitiche appunto. Un po' di numeri li abbiamo dati, il programma? Il programma prevede la partenza della gara lunga da Piovene a Rocchette a Luna di notte di sabato, quindi il venerdì sera. Il passaggio dei primi nelle posizioni intermedie di passo piano delle fugazze intorno alle 5 e mezza della mattina e il passaggio invece del gruppone più avanti nella mattinata. L'arrivo a Valdagno dei primi attorno alle 10 della mattina e poi via via tutti gli arrivi fino a mezzanotte dove arriveranno le scope. E seguire grande festa? Festa continua visto che uno dei nostri partner oltre a Montura è Birra Menabrea e che ci ha mandato giù un camion di roba. Marino Giacometti, presidente della ISF, una scommessa importante per la federazione internazionale di Skyrunning che dopo il successo di Canazei ora punta a chiudere in bellezza con la TDH. Sì, la prova ultra è un'audibilità anche per noi, campionato europeo, fino adesso ci siamo sempre battuti con le gare Sky e Vertical. Sono molto contento di questa soluzione, la Transdavet mi sembra una competizione che soprattutto richiama anche nel percorso proprio la tenicità delle gare Sky e penso sarà gradita a tutti gli atleti e sarà un mezzo soprattutto per far conoscere queste zone che meritano una maggior visibilità. Visibilità che questo sport sta ottenendo molto, soprattutto a livello mediatico. Sì, a livello di sostanza, nelle prime due gare abbiamo avuto atleti in rappresentanza di 18 nazioni più altre quattro delegazioni non ufficiali perché il campionato in Formula Open è stato un successo ma soprattutto nel mondo moderno e di internet c'è un'adesione, un'attenzione a questo sport che se guardo indietro due anni fa abbiamo quintuplicato l'attenzione e i mass media ma soprattutto ci seguono persone da 150 paesi al mondo. Penso che questo sia un grosso, grosso successo e un'opportunità per espandere ulteriormente. Grazie Grazie Grazie